Ciao a tutti, benvenuti su un altro video sul mio canale, in questo video parliamo di creatina, questo prodotto che ho qua e io dico come possiamo usare questo prodotto e quando dobbiamo usarlo e effetto di questo prodotto però prima di iniziare volevo dire che anche il nostro corpo può dire questo articolo qua che si chiama creatina anche tu puoi trovare creatina sul cane, cane rosso tipo bovino e quello di cavallo qualsiasi cane rosso credo che si può trovare, io non sono un dottore quindi non posso elaborare su questo prodotto qua però se volete vedere un video speciale dove vi parlo di questo prodotto solo e come può dire questo prodotto al nostro corpo che si chiama creatina, ditemi sui commenti sotto e vado a studiare un po' poi faccio un video intero parliamo di solo questo prodotto. Ok, io oggi sono qua per rispondere alle domande dei miei clienti che mi chiedono cosa vuoi dire creatina e effetti di creatina, come usare creatina e quando dobbiamo usarlo prima iniziamo con quando dobbiamo usare creatina secondo me se tu stai già alzando pesi e stai già allenando per magari uno o due mesi e tu sei maggiore e sai cosa stai facendo se tu stai guardando questo video ovviamente quindi vuoi dire che sei già interessato su questo prodotto secondo me prima di dimenticare questo prodotto è uno dei prodotti più studiati su body beauty creatina è un prodotto che è studiato su body beauty quindi praticamente è un prodotto diciamo sicuro quindi però dobbiamo anche fare attenzione come usarlo più in questo video parlo di quello e praticamente come sto dicendo se tu stai già alzando pesi secondo me puoi tranquillamente usare questo prodotto che si chiama creatina e come usarlo ci sono diversi modi come usarlo questo prodotto diversi persone usano in diversi modi quindi io dico su cosa ho provato su di me e anche voi potete provare in questo modo o usate come volete praticamente sono gente che iniziano con dosiati magari 10 grammi fanno per magari sei mesi e poi staccano per un po' per non far abituare il loro corpo e di nuovo dopo sei tre mesi sei mesi dipende quattro mesi iniziano di nuovo a usare i dosiati però per me io uso dosi un po' più bassi tipo tre cinque grammi e lo uso per sempre magari ogni tanto stacco per un mese o due mesi o se no continuo perché sto usando dosi base e il mio corpo non sarà abituato facilmente di creatina come quando ho usarlo ho già detto e come ho già detto quindi i fatti di questo creatine tante gente hanno lamentato di praticamente di effetti di creatina che hanno avuto perdita di capelli no perché gli studi hanno già visto che gente che hanno perso capelli usando creatine sono gente che avevano già portato di perdere capelli poi un altro effetto che sento che la gente dicono che creatina ti fa andare in bagno questo qua può essere anche vero perché succede sempre a me quando prendo creatina e vado in bagno perché magari il mio corpo non è abituato ad avere così tanta creatina in corpo però non ho ancora capito perché lo fa però è una cosa normale di prendere le persone sono gente che lo prende e che non vado in bagno su qualsiasi prodotto che prendiamo anche proteine ci sono gente che prendono e che vado in bagno ci sono gente che prende proteine e che non vado in bagno tipo io non prendo proteine scusami quando prendo proteine non vado in bagno solo perché io sono di tolerante alla tosia se i proteine hanno la tosia di sicuro vado in bagno e come uso questo proteine? ho detto proteine creatina quindi tu puoi usare questo creatina tranquillamente bevendo con solo acqua o come uso io metto dentro le mie proteine prima o dopo il workout e dipende come devo usarlo quindi ragazzi creatina è un prodotto più che sicuro che io consiglio gente di usare e il creatina ti aiuta a crescere i tuoi muscoli e ti aiuta anche a recuperare più veloce dopo un allamento quindi dico che creatina è molto utile è buona anche ti aiuta a crescere i tuoi muscoli veramente dopo 15 giorni o un mese tu vedi cambiamenti che tu non riesci a immaginare è più che sicuro e questo è quasi l'unico integratore che consiglio ai miei clienti e amici, gente che mi conosce di prendere questo qua anche a proteine quindi ragazzi andate tranquilli con creatina però come sempre non esageriamo con i dose vedi se funziona per te ditemi sui commenti sotto come siete trovati non devi per forza comprare questa marca e non sto facendo pubblicità per questa marca questo è cosa sto usando in questo momento secondo me qualsiasi creatine vanno anche bene quindi non deve per forza essere questo e ragazzi ho detto tutto comunque se questo video è stato utile per te non dimenticate di mettere un bel like e non dimenticate di mettere un bel like lo stesso se tu vedi questo video commentate e iscriviti sul canale e accende quella campanella così quando pubblico altri video come questo arriva la notifica anche a te e aiuta questo canale tanto ricordatevi, sti motivati, sti natural e sti naughty ooooh